Gli hai detto al tuo figlio come vuoi fare cantante? Gli hai detto no Dino voglio fare tutt'altro Il tuo figlio cosa vuol fare nella vita? No gliel'ho detto io che se vuole cantante mi toglie il posto, è più giovane, più bella Non è portato perché i figli dovrebbero fare un padre di perseguire per fargli fare quello che magari lo ha vestito insomma vuol fare cantante Vabbè ma Nando quant'anni ha? Nando è giovanissimo E vabbè mi sono sposato piccolino Vabbè comunque l'importante avere una famiglia che ne apporta è importante L'età è solo un fatto all'anario L'importante è di sentirsi dentro Esatto, la carta di identità Nando facciamo giocare un'altra partita poi rientriamo noi stiamo qui, giochiamo una cosa insieme poi dopo andiamo via, Gerardo mi ha detto c'è un'altra partita quindi loro ci sono, un applauso a Nando Mariano c'è l'applauso? Sì, più forte Allora qualcuno mi ha chiesto la foto qualcuno mi ha chiesto il cd qualcuno mi ha chiesto l'autografo c'è l'autografo c'è il cd c'è anche il cd qualcuno no Pasquale Pasquale mi hai rovinato ho detto ho promesso mille cd ce n'è uno no uno ho promesso mille cd mi ha detto mille ok sono dieci sono venti sono trenta sono dieci dieci cd li regaliamo intanto partita speciale intanto saluto Enrico Gerardo mi ha detto Dino partita speciale ancora una volta quindi Nando si riposa prende un caffè stiamo insieme e poi e poi e poi ci sono loro che girano tutti in blu il bingo l'abbiamo fatto? siamo sfigati noi noi siamo sfigati nella vita sono sfigati l'ho detto anche la la Maria mi ha detto Dino un cd Nando Mariano Dino le foto Dino l'autografo Dino che cosa ok si dopo mi ha detto